Francesca, tu sei la prima donna editrice in Calabria, la tua casa editrice si chiama Il Veliero e già da due anni che operate in questo settore, quali sono le novità? Le novità sono tante, intanto stiamo pubblicando tantissimi libri di autori non soltanto calabresi di tutta Italia ma anche dall'estero e diciamo che siamo molto soddisfatti, è un sogno che si è realizzato, un mio sogno personale che si è realizzato e questa casa editrice è nata appunto da un'associazione che ho fondato e si chiama Veliero, letteratura e cinema Anche il tuo ultimo libro rientra, è stato pubblicato dalla tua casa editrice chiaramente Sì, il mio ultimo libro, anzi i miei due ultimi libri, ne sono anche l'editore che sono appunto Il Viale e Poesia dell'Anima e poi un altro libro che è uscito in Albania e in Kosovo che si intitola Oltre il mare Questo Oltre il mare ancora non è arrivato in Italia? No, ancora non è arrivato in Italia ed è scritto a quattro mani con il poeta e scrittore Nicole Loca Quindi possiamo dire che questa tua voglia della casa editrice si è realizzato, questo tuo sogno e che chiaramente è un punto di riferimento non solo per i calabresi Non solo per i calabresi ma per tutti coloro che hanno un sogno, un romanzo nel cassetto e lo vogliono tirar fuori Noi valutiamo tutte le storie che ci arrivano, le esaminiamo e poi decidiamo se pubblicarli perché in un certo senso siamo un pochino severi Ma questo è dovuto al fatto che siamo molto seri e competitivi Grazie a tutti Grazie a tutti